L'armonia delle righe, la storia del libro, gli inizi, dal medioevo al 600, 1700-1800, età contemporanea, la storia del libro, gli inizi, la scrittura. Tipi di scrittura. Pittografico, i segni riproducevano disegni di oggetti con valore semantico aderente simbolico. Ideografico, il segno non rappresentava soltanto un oggetto ma un concetto. Geroglifica, testimonia nel passaggio da una scrittura pittografica ad una ideografica, attraverso la stilizzazione dei segni grafici. Sillabica, pochi segni potevano rappresentare qualunque parola. Alfabetica, ogni segno corrispondeva ad un suono. Supporti della scrittura. Rotolo volumen, gli scritti del primo testamento vennero affidati a dei volumi, cioè a dei rotoli, in cui il materiale scrittorio viene arrotolato su un bastoncino, il capitolium. Concretamente, si usavano dei singoli fogli incolati in successione, fino a formare una lunga striscia che si avvolgeva appunto fino intorno al bastoncino. Ecco la ragione del termine latino volumen, ciò che ha avvolto. Codex. L'epoca del Nuovo Testamento viene dunque a coincidere con quella dell'innovazione librare del codice, ossia del libro redatto in fogli singoli, tra loro rilegati e non avvolti. Questa era una grande conquista, poiché il libro poteva essere scritto su entrambi i lati della pagina, girato con una mano sola, ed era utilizzabile con estrema celerità, per cui si poteva passare in un solo istante da una pagina ad una molto più lontana, ciò che sarebbe risultato impossibile con la forma del rotolo. Ne risultava una grande facilità nella consultazione di passi a scopo argomentativi. Inoltre si potevano unire fra di loro vari libri, non più separati in singoli codici. Papiro. Anche se il materiale scrittorio può essere in alcuni casi la pietra, il rame e le tavolette d'argilla, non c'è dubbio che il più usato era il papiro. Esso proviene dalla pianta erbacea detta scientificamente Ciparus papirus, dell'ordine delle ciparecee. Questo vegetale è caratterizzato da uno stelo molto lungo e da un pennacchio abbondante, che si apre a forma di sfera, costituita di numerosissimi filamenti. È pianta che richiede clima caldo e acqua abbondante, perciò è diffusa nelle paludi del Nilo. Pergamena. Al papiro si affanca la pergamena, che tende progressivamente a soppiantarlo, specie nelle zone in cui era difficile procurarsi il papiro. La ragione del successo della pergamena sta però nel fatto che essa è un materiale molto più resistente e duraturo, particolarmente adatto ad accogliere la scrittura su entrambe le facciate, mentre il papiro, sul lato presentante la direzione verticale delle fibre, presenta una superficie meno soddisfacente per i bisogni della scrittura. Il Manoscritto Il Manoscritto è situato nel Medioevo, quando gli amanuenzi trascrissero migliaia di testi dell'antichità, conservandoli in codici che li hanno preservati nei secoli. La disciplina che studia i manoscritti è la codicologia, mentre lo studio della scrittura è affidato alla paleografia. Il libro realizzato in pergamena assunse la forma a codice, già usata per le tavolette cerate, che venivano legate insieme a formare il diptycus, il tripticus e il polipticus. Il termine codice fu poi usato anche per designare i fogli di pergamena piegati in due ed inseriti l'uno nell'altro a formare i quaderni, originalmente di quattro fogli, da cui il nome. Dalla caduta dell'impero romano al XII secolo, i monasteri e le istituzioni ecclesiastiche si occuparono della compilazione e della copiatura dei libri. Gli scrittori a dei grandi monasteri trascrissero bibbie e commenti biblici, opere scientifiche e ricopiarono i testi dei grandi scrittori latini. Stracci di lino, canapa e cotone venivano sminuzzati, fatti macerare e battuti fino a diventare una pasta omogenea. Immessa la pasta in appositi tini, vi si immergeva la forma. La forma, costituita da un telaio rettangolare, erano tesi sottili fili di cotone e vergelle, sostenuti da alcune barre di legno, filoni perpendicolari ad essi. La forma, immersa nel tino, tratteneva grazie ai filoni alle vergelle uno strato di pasta. I telai venivano poi posti ad asciugare. Ne uscivano i fogli di carta, che trattati con colla e fatti ancora asciugare, erano pronti a ricevere finalmente la scrittura. Le cartiere usavano inoltre sistemare nei telai dei fili intrecciati a formare un disegno, filigrana, la cui impronta rimaneva impressa nel foglio, risultando visibile in controluce. Nelle carte antiche, la filigrana è un segno sovente prezioso per stabilire la provenienza della carta e quindi per datare o localizzare il libro. Il palimpsesto è una pagina manoscritta, pergamena o libro, che è stata scritta, cancellata e riscritta nuovamente. Il termine deriva dal greco palimpsestos. Con il passare del tempo, i lavili resti dello scrittore precedente erano stati rimossi dalla pergamena usando come materiali latte e crusca, che riaffioravano abbastanza da permettere agli studiosi di decifrare il testo, chiamato sottoscrittura. Nel Medioevo, la scrittura veniva grattata via con della polvere di pietra pomice, facendo scomparire il testo irrimediabilmente. Per questo motivo, i palimpsesti più preziosi sono quelli che verranno sovrascritti all'inizio del Medioevo. Dal Medioevo al Seicento L'Umanesimo Nel XIV e nel XV secolo, l'editoria del libro manoscritto conobbe un'eccezionale fioritura, alla quale contribuì il mecenatismo dei principi. I testi antichi divennero un prodotto molto richiesto, sia da principi allaici che dal clero. Importanti biblioteche, come la Laurenziana, nacquero appunto da collezioni private. Infatti, nell'età dell'Umanesimo, si diffusero le opere in volgare, che venivano incontro dalle esigenze di un pubblico sempre più vasto. Si intensificò e si razionalizzò anche l'attività dei copisti, che si organizzarono in catene di montaggio, procedendo ad una divisione dei compiti. Il manoscritto si avviava graduatamente verso la produzione in serie, caratteristica successivamente del libro a stampa. L'invenzione della stampa Il problema di riprodurre in più esemplari o a più riprese segni e immagini, fu affrontato in vario modo dai più lontani popoli dell'antichità. Egiziani, assiro-babilonesi, romani, adottarono le tecniche più svariate per contrassegnare monete o imprimere mattoni d'argilla. In Cina, fin da antichissimi tempi, si utilizzavano tavole di legno inchiostrate per stampare disegni e caratteri. Anche nell'Europa del Medioevo, miniatori e copisti usavano piccoli legni incisi per stampigliare iniziali o altri contrassegni sui codici. Questi tentativi costituirono i precedenti della tecnica xilografica, che si affermò rapidamente a partire dal XIII secolo, favorita anche dall'introduzione della carta. A questa si sostituì l'arte della stampa, mentre la xilografia continuò ad essere usata come tecnica di illustrazione. In età umanistica, infatti, il diffondersi della cultura favorì per la riproduzione di testi sia la ricerca di un sistema più rapido, mentre la stampa si affermò in Europa verso la metà del XV secolo. Molti paesi hanno vantato una loro priorità in quella che appare una delle più importanti scoperte dell'umanità per gli straordinari effetti che ne sono derivati, ma è opinione comune che la stampa a caratteri mobili sia nata a Magonza per merito di Johann Gutenberg. Johann Gutenberg Johann Gutenberg nacque a Magonza nel 1400 circa e morì intorno al 1468. Il suo nome comparve per la prima volta a Strasburgo, dove era stato espariato, negli atti di un processo. In seguito ritornò a Magonza e sembra che appartengono a questi primi anni della sua attività alcuni fra i più antichi documenti stampati, fra i quali un frammento di poemetto tedesco sul giudizio universale, databile 1445-46, un calendario astronomico del 48, varie edizioni della grammatica latina di Donato. Egli costituì nel 1449 una società col banchiere Johann Fast, pubblicò le famose lettere d'indulgenza, nel 1454-155, forse i più antichi documenti datati. Nel 1455, collaborazione tecnica di Peter Scheffler, realizzò la prima opera tipografica d'Europa, la celebre Bibbia delle 42 Linere, detta anche Mazzarina, della quale risultano ancora esistenti una ventina di esemplari. Fra le altre opere sono da ricordare il Catholicon del 1460 e la Bibbia detta delle 36 Linere. Da Magonza, la tecnica della stampa si diffuse graduatamente in tutta l'Europa, e alla fine del 400 non esisteva città importante che non avesse una sua tipografia. Benché la tecnica fosse ancora riumedimentale, i torchi a braccio di questi prototipografi diedero alla luce opere meravigliose. Dai primi incunaboli agli eleganti volumi del 500 fu tutto un fiorire di classici, di opere involgare, di volumetti spesso impreziositi dalle illustrazioni xilografiche. Nonostante i vari miglioramenti, la tecnica della stampa rimase invariata per quasi tre secoli. Il 400. Divulgazione della stampa. Il segreto di cui Gutenberg cercò di circondare la sua invenzione non durò a lungo, perché soci ed apprendissi portarono fuori dalla città di origine la nuova arte. Sino al 1500 essa si diffuse in oltre 50 località della Germania. Fu appunto un socio di Gutenberg, Alperto Pfisser, ad introdurla in Abbanberga, dove stampò nel 1460 il primo libro a caratteri mobili con illustrazioni xilografiche, unendo così due tecniche che sembravano tanto diverse fra loro per metodi e risultati. La stampa si diffuse in pochi anni in tutta la Germania, a Strasburgo e a Colonia, a Nuremberg ed in altre città, ad opera di tipografi i cui nomi sono giunti fino a noi, i fratelli Zeiner, Enrico Quente, Antonio Kobesberg ed altri. Furono circa 200 le officine tedesche della seconda metà del XV secolo e furono ancora due tedeschi, secondo la tradizione, a portare l'arte stampatoria in Italia, dove si sarebbe ben presto sviluppato in maniera ben maggiore che nella Germania. Intorno al 1464 il cardinale spagnolo Torquemada e forse il cardinale tedesco Niccolò di Cusa avrebbero invitato nel monastero benedettino di Subiaco Corrad Schwaenheim e Arnoldo Pannartz, due stampatori tedeschi ai quali si dovrebbe dunque l'introduzione della stampa in Italia. È loro, infatti, la prima opera tipografica italiana che riporti la data, 29 ottobre 1465, il De Divinis Instituzionibus Adversus Gentes di Lattanzio. Il primo libro stampato in Italia, sempre invece che sia stato il De Oratore di Cierone, sempre ad opera dei due prototipografi tedeschi. In seguito Schwaenheim e Pannartz si trasferirono a Roma, dove proseguirono, non senza grosse difficoltà, la loro attività. Schwaenheim e Pannartz non furono i soli ad essere aiutati dal cardinale Torquemada, se è vero che questi fece stampare una sua opera, Le Meditazioni, da Enrico Hannan, che è egli tedesco, a Roma nel 1467. Numerose officine furono aperte in questo periodo in diverse città italiane, in particolare a Venezia, dove la stampa fu introdotta dal tedesco Giovanni d'Aspira nel 1469. Venezia annoverava alla fine del XV secolo addirittura 200 stamperie, detenendo il primato fra le città d'Europa, grazie alla sua posizione geografica favorevole e alla legislazione della Repubblica, che incoraggiava tali imprese. A Venezia operarono alcuni fra i più grandi tipografi editori del tempo, tra i quali il celebre Aldo Manuzio. Aldo Manuzio Aldo Manuzio, il Vecchio, nacque presso Roma intorno al 1450 e morì a Venezia nel 1513. Nel 1484 stampò a Venezia Lero e Leandro, di Museo, e da allora si dedicò alla pubblicazione di splendide edizioni, avvalendosi della collaborazione dei più famosi umanisti del tempo. Nel 1501, con un'edizione oggi rarissima di Virgilio, inaugurò la serie delle edizioni in ottavo, e l'anno successivo uscì la Divina Commedia, con l'emblema dell'ancora col delfino, marca tipografica destinata a divenire simbolo di perfezione formale. Per le opere latine, fece incidere da Franco Griffi le prime serie di un nuovo carattere tipografico, il cancelleresco, chiamato poi Aldino o Italico, che permetteva di economizzare lo spazio, pur presentando una certa eleganza formale, e che divenne il carattere più usato per tutto il XVI secolo. L'opera di Aldo Manuzio fu poi continuata successivamente dal figlio Paolo, chiamato poi dal Papa Pio IV, a dirigere la tipografia romana, e dal nipote Aldo il Giovane. Progressi della stampa nel Cinquecento Nel XVI secolo, il libro a stampa va sempre più perfezionandosi, e si avvicina nell'aspetto al libro moderno. Nell'ultimo decennio del Quattrocento, compare il titolo posto sotto forma di occhiello, nella pagina che precede il testo. I primi incunaboli somigliavano invece anche in questi manoscritti. Il titolo era riportato o all'inizio del testo, o alla fine, nel cosiddetto colofon, assieme alle indicazioni dell'autore, del tipografo e della data, non sempre riportate. Nei primi anni del Cinquecento, si diffonde il frontespizio, con le indicazioni di autore e data, e con la marca tipografica. Il libro intanto viene acquistato non più soltanto dagli elitti intellettuali. Si stampano e si vendono le opere in volgare, gli avvisi, gli antenati del giornale, e i resoconti di viaggi nelle terre da poco scoperte, i libri di devozione. Venezia continua a mantenere, almeno in Italia, il primato della qualità e della quantità, anche grazie a delle famiglie di tipografi che si tramandano l'arte da una generazione a un'altra. Nella seconda metà del XVI secolo, si diffonde anche l'arte della calcografia, le incisioni, e ad incavo su metalli che permettono illustrazioni molto più minuziose e fedeli dell'antica xilografia. Nel Settecento, con il trionfo della grande erudizione, la calcografia acquisterà un'importanza sempre maggiore della stessa tipografia, per la sua utilità nella pubblicazione di opere scientifiche e tecniche, e soprattutto per la composizione di tavole esplicative spesso inserite fuori testo. Fra gli artisti incisori del Rinascimento spiccano i nomi di Antonio Pallaiolo, di Andrea Mantegna, e del Parmigianino, il fondatore dell'incisione italiana ad Acquaforte. Le ricche incisioni compensano in qualche modo l'impoverimento dei contenuti che si verifica nella metà del secolo, quando con il Concilio di Trento e con la pubblicazione degli indici proibiti si instaura il clima oscurantista della controriforma. Barocco e studi scientifici nel Seicento. Il Seicento è l'epoca dei grandi contrasti anche nell'arte della stampa. Da un lato si assiste al trionfo del Barocco, che si esprime in una produzione sempre più appariscente ma povera di contenuto, frontespizzi, incisi, antiporte. L'antiporta è una pagina esornativa posta all'inizio del libro che raffigura una scena. Prolissità dei titoli, prefazioni dedicatorie, e nel contento sciatteria dei caratteri e scadente qualità della carta. Dall'altro lato, il fervore degli studi scientifici dà luogo ad una produzione editoriale clandestina, dove divengono numerose le opere pubblicate citando falsi luoghi di stampa allo scopo di eludere la censura. L'editoria europea subisce un regresso. L'unica azienda editoriale di importanza europea che continua a produrre opere di un certo valore e livello grazie alla libertà e libertà di stampa esistente è quella degli Elzevie in Olanda, che pubblica, oltre alle edizioni di classici latini e greci, testi scientifici e religiosi riproibiti per i loro contenuti nei paesi di origine e li esporta in vari paesi europei attraverso le proprie agenzie. Nella seconda metà del secolo nascono i primi giornali letterari come Il Giornal de Saint-Main e Il Giornale dei Letterari. Il libro nel 1700-1800. In Italia, si assiste durante il Settecento ad una grande ripresa della stampa. Sorgono nuove stamperie, la più celebre delle quali è quella aperta da Giovanni Battista Bodoni, il quale disegnò personalmente nuovi caratteri che da lui presero il nome, caratteri bodoniani. Nel Settecento si distingue nell'editoria europea la produzione francese, determinata dalla grande fioritura e diffusione delle idee luministiche che culminano nelle enciclopedie. Contemporaneamente, assistiamo all'introduzione di nuovi strumenti per la produzione della carta e per la stampa, che fecero incrementare notevolmente la produzione e ne fecero anche abbassare i costi. Antonio Panizzi è stato un patriota, bibliotecario e bibliografo italiano, ricordato anche per essere stato un importante direttore della biblioteca del British Museum. Bodoni è un tipo di carattere con grazie disegnato da Giovanni Battista Bodoni, caratterizzato da un alto contrasto fra le linee spesse e quelle sottili. È il classico esempio di fond con grazie moderno. L'enciclopedia o dizionario ragionato delle scienze, delle arti o dei messieri, in francese Enciclopédie o Dictionnaire Ressonné des Sciences Desertes o des Métiers nel titolo originale, è una vasta enciclopedia pubblicata nel XVIII secolo in lingua francese da un consistente gruppo di intellettuali sotto la direzione di Diderot e di Edelenbert. Essa rappresenta un importante punto di arrivo di un lungo percorso teso a creare un compendio universale del sapere, nonché il primo prototipo di larga diffusione e successo delle moderne enciclopédie, al quale guarderanno e si ispireranno nella struttura quelle successive. La fama di Antonio Panizzi fu legata soprattutto all'attività svolta in qualità di direttore della biblioteca del British Museum. La British Museum Library era la biblioteca nazionale del Regno Unito. Durante la gestione di Panizzi divenne la più grande biblioteca nel mondo e venne anche costruita la famosissima Reading Room, la sala di lettura a base circolare. Strumenti e innovazioni per la fabbricazione della carta macchina continua in piano macchina in tondo pasta di cellulosa strumenti e innovazioni per la stampa torchio meccanico linotype monotype L'impasto ottenuto dai cilindri raffinatori passava alla macchina continua in piano un ulteriore macchinario successivo ai magli che completava il processo automatico di produzione trasformandola tutta pasta ottenuta in fogli. La macchina continua in piano fu perfezionata dalla macchina in tondo dove un sistema di cilindri in serie garantiva una produzione 10 volte superiore alla media precedente. Alla carta di stracci viene sostituita la pasta di cellulosa derivata da un procedimento chimico di defibrazione del legno. Ancora oggi la materia prima utilizzata per la produzione della carta è la cellulosa una sostanza del legno vegetale. Nel 1812 Friedrich Koenig sperimentò il primo torchio meccanico azionato d'energia termica e che nella notte fra il 28 e il 29 novembre 1814 viene impiegato nella stampa del noto quotidiano inglese The Times. La Linotype è una macchina per la composizione meccanica delle pagine di stampa. Fu installata per la prima volta proprio nel 1886 al New York Tribune e consentì un passaggio della velocità di composizione dai 1000 caratteri ora tradizionali agli 8000-10000 e la caratteri allora. La Monotype nasce come un'evoluzione della Linotype e infatti è molto più articolata di questa. Pur essendo più lenta della Linotype la Monotype ha il vantaggio di facilitare le correzioni permettendo la sostituzione del singolo carattere errato e inoltre permette anche una maggiore qualità di stampa. Il libro moderno Mare Magnum Il Mare Magnum è una bibliografia universale suddivisa in 43 grandi ripartizioni del sapere o materie chiamate classi. Il nome è dovuto alla grande confusione che prima vi regnava. Storia Francesco Maruccelli abate che diede via alla biblioteca e la divise in due ripartizioni Angelo Maria Bandini bibliotecario della Mare Uccelliana che ne cura l'accrescimento Ripartizioni del sapere Biblia sacra liturgia filosofia matematica retorica grammatica Guido Biaggi pubblicò le classi con gli elenchi degli articoli contenuti e il loro indice alfabetico Le classi vengono suddivise in soggetti specifici o articoli espressi in lingua latina e disposti sempre in ordine alfabetico La riproduzione digitale del Mare Magnum ha previsto la conversione dell'indice in un database per consentire la ricerca e la sua consultazione Oggi la libreria può essere utilizzata per vari scopi e grazie ad essa è possibile capire quali libri si potevano leggere nel XVIII secolo e quali autori avevano trattato determinati argomenti Il grande vantaggio di Mare Magnum è la possibilità di consultare più volumi contemporaneamente Come si effettua una ricerca? Oggi come per i 24 volumi originali disponiamo di un indice dal quale possiamo iniziare la nostra nuova ricerca Scegliendo la voce latina più vicina all'argomento scorriamo i vari articoli che ci si presentano fino a quando non troviamo ciò che stavamo cercando Per essere sicuri della completezza della ricerca è bene scomporre la ricerca in vari aspetti e proseguire con lo stesso metodo con eventuali sinonimi Amazon.com è una compagnia di commercio elettronico statunitense fu fondata nel 1994 con il nome di cadavra.com da Jeff Bezos proclamato uomo dell'anno dal Times Magazine nel 1999 fu ribattizzato Amazon.com da Rio delle Amazzoni iniziò come libreria online e presto allargò la sua gamma di prodotti vendendo persino abbigliamento e cibo questa innovazione venne accolta con forte scetticismo che caratterizzò infatti la sua lenta crescita la ditta non pensava infatti di fare profitto per i primi 4-5 anni solo nel 2003 fu registrato il primo guadagno su base annua con il passare degli anni Amazon.com superò dal punto di vista del profitto tutti i siti di vendita online fatta eccezione per ebay Kindle è un lettore di libri elettronici commercializzato da Amazon Soria inizialmente destinato al mercato statunitense è stato poi lanciato in tutto il mondo a partire da ottobre 2009 arrivando in Italia il primo dicembre 2011 l'Amazon Kindle permette di connettersi ad internet per lo scaricamento dei contenuti libri digitali giornali e riviste esso è finalizzato esclusivamente alla lettura il suo schermo funziona a inchiostro sembra di leggere un foglio di carta niente a che vedere con lo schermo di un computer si può leggere ovunque anche al sole ma senza riflessi sullo schermo iPad l'iPad è un tablet computer prodotto da Apple in grado di riprodurre contenuti multimediali e di navigare su internet esso è stato presentato da Steve Jobs il 27 gennaio 2010 ad una conferenza Apple allo Yerba Buena Center for the Arts Theater di San Francisco l'iPad consente l'utilizzo di software più complessi appositamente realizzati e disponibili su App Store quali fogli di calcolo editor di testi presentazioni creazione musicale gestione database eccetera eccetera ebook un ebook è un libro in formato elettronico o meglio digitale nel 1971 nasce il progetto Gutenberg lanciato da Michael S. Hart questo viene considerato da molti l'anno di nascita dell'ebook nel 1998 vengono lanciati i primi ebook reader rocket ebook e softbook le caratteristiche essenziali che un ebook reading device dovrebbe avere sono essere dotato di una fonte autonoma di energia avere dimensioni e peso simili rispetto a un qualsiasi altro libro cartaceo permettere la lettura in condizioni ambientali illuminazione simili a quelle in cui può essere letto un normale libro cartaceo l'ebook come nuovo libro la competitività del mercato si basa su tre elementi uno formati e codifica per rappresentare il testo e una protezione per garantire i diritti d'autore due programma di lettura adeguati per accedere al testo tre dispositivi hardware per acquistare e conservare l'ebook la comunità dei bibliotecari ritiene importante sostenere l'uso di formati aperti a tutti e che siano offribili liberamente e gratuitamente soprattutto che siano risultato di confronto prima che lo strumento lettore dei libri elettronici possa sostituire il libro tradizionale sarà necessaria una trasformazione culturale oltre che tecnologica in grado di formire una solida base ideologica e uno strumento innovativo che si inserisca nella linea di una tradizione sicolare le nuove librerie oggi grazie allo sviluppo delle tecnologie anche le librerie si stanno trasformando diventando spazio di attività diversificate unificate dal libro ma anche aperte ad una fruizione più ampia delle informazioni un concreto esempio è la libreria Feltrinelli nella quale oltre a comprare libri si organizzano incontri con personaggi famosi presentazioni e si ha anche la possibilità di acquistare CD-ROM DVD videogiochi poster strumenti musicali eccetera eccetera vi ringraziamo dell'attenzione gli alunni della quarta E liceo scientifico Giovanni da Procida anno scolastico 2012-2013 e liceo scientifico 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 Grazie a tutti.